Cicloescursionisti e cicloturisti appassionati parteciperanno alla cicloesplorazione dell'acquedotto pugliese giunta alla seconda edizione. Per circa 500 chilometri in sette giorni dal 27 agosto al 2 settembre i ciclisti percorreranno l'itinerario da Caposele a Santa Maria di Leuca, realizzando un'esperienza di mappature e promozione dell'itinerario storico che segue le condotte di una fra le più imponenti opere di ingegneria idraulica mai realizzate al mondo. Lungo il percorso si svolgeranno una serie di iniziative e di incontri dall'Irpinia fino al Salento. Conclusione a Santa Maria di Leuca dove all'arrivo sarà accesa la cascata monumentale. La ciclovia dell'acquedotto pugliese è uno dei quattro percorsi cicloturistici prioritari unico nel mezzogiorno per il quale il 27 luglio è stato firmato il protocollo d'intesa fra i Ministeri delle Infrastrutture e dei Beni Culturali e la Regione Puglia, Campania e Basilicata.